Bentornati su MyFootballJersey. Quella che vedete è la maglia nuova della nuova stagione dei New York City, la maglia di casa. Grazie per la visione! La maglia è bella! Nella mia classifica prende 4 stelle, in particolare il mosaico che ricrea la scritta New York e molto bello il contrasto arancione che c'è sulla maglia. Dunque la maglia è fatta sicuramente molto bene, il prezzo lo vedete qui sopra e vi ricordo che include anche le spese di spedizione. In descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari e quindi il costo della maglia diminuisce ulteriormente. Prima di lasciarvi alla parte finale, se il video vi è piaciuto, se gradite i contenuti di questo canale, mi raccomando mettete un grosso like e iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FUN!